In questi giorni, mentre tutti siamo presi, sì, adesso dopo il Natale siamo presi tutti per la fine dell'anno e l'inizio del nuovo anno, ma per noi cristiani il tempo di Natale termina con la festa del battesimo, quindi il mistero dell'incarnazione è ancora al centro della nostra riflessione liturgica, al centro delle nostre celebrazioni, al centro della nostra preghiera. Ma mi chiedevo fino a che punto la stessa Chiesa, noi stessi, aiutiamo a comprendere che il Natale è partecipazione alla grazia che il Padre ci ha donato e ci dona attraverso il Figlio Gesù Cristo, così come leggiamo nella seconda lettera a Pietro. È inutile dire o ridire che il Natale è più consumista, molte volte è quello che emerge più il panettone che semmai il messaggio di Gesù, o piuttosto questo è valido fino a un certo punto, perché il Natale è stato sempre, da sempre consumista e lo sarà sempre, quindi è inutile dire questo e prendersela con gli altri, ma come diceva Padre Turoldo, non dobbiamo più arrabbiarci, ma dovremmo arrabbiarci semplicemente con noi stessi e chiederci io, io, tu, come viviamo il Natale? Io come vivo, visto che sono cristiano, il Natale? Perché se il Natale è prevalentemente consumista, è prevalentemente pieno di rumori, è perché noi stessi cristiani abbiamo dimenticato, non viviamo il mistero di questa solennità. Partecipare allora a quest'amore di Dio è l'altra dimensione, nell'altro aspetto del Natale, perché una volta che noi abbiamo desiderato di riamare il Signore, poi vogliamo partecipare a questo amore. E quest'amore è un amore che, il cui desiderio di partecipare appunto va alimentato, il cui desiderio di partecipare va continuamente invocato, pregato. E allora la notte di Betlemme, il mistero del Natale, il mistero della incarnazione, è vero quando ridesta in ciascuno di noi il desiderio di partecipare, di godere, di essere in un certo senso contagiati, di essere avvolti da questo bambino. E chi è quel bambino? Leggiamo ancora nella scrittura, è apparsa la grazia, quel bambino è Cristo, la grazia, la vita, la luce, la speranza, la gioia che Dio ci dona. Partecipare a questo amore di Dio, non solo riamare Dio, o meglio, riamare Dio partecipando, desiderando di partecipare a questo amore. Cosa il mio cuore desidera in questo momento? Cosa il tuo cuore desidera in questo momento? Chiediamo aiuto a Maria e chiediamo aiuto allo Spirito Santo. Ci vediamo domani, Parli Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti. Grazie a tutti.